Gamba girare bene, aspettare le ultime cinque e poi attaccare. Quando ho visto lui dietro a me ho visto una buona chance e andare tutta. Sì, mi piace quando ho un po' più brutto tempo come oggi. Gamba girare bene. Sì, già tre anni fa ho vinto una similare etapa e mi piace. Christopher Froome ha detto che tu dici che ti piace la pioggia e Froome ha detto che è falso. Cosa rispondi? Mi piace sempre un po' più il brutto tempo perché quando c'è caldo ho gambe, non girare come io voglio. L'unica chance è aspettare questo tempo. Ho fatto il secondo posto e poi ho vinto il verde tavolo. La consideri come una tua vittoria? Sì, perché è partito già in febbraio, sempre andare in gara e poi dopo questa gara ho un po' riposo perché è già un po' stanco. Adesso prima già avvia e mondiale perché è molto dure. Questa è la terza parte per la mondiale. Adesso la seconda parte è il giro di Svizzera. Ok, grazie Simon, congratulazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.